È il G20 che condanna la guerra in Ucraina, che affronta la crisi energetica e l'instabilità finanziaria globale, gli equilibri tra superpotenze e le tensioni nella regione dell'Asia Pacifico. A dominare l'agenda anche le relazioni tra Stati Uniti e Cina, le prime due economie mondiali e le prove di disgelo tra Joe Biden e Xi Jinping. I grandi del mondo sono riuniti a Bali, in Indonesia, nove mesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina che ha profondamente cambiato lo scenario internazionale. Vladimir Putin è il grande assente, ma c'è il suo ministro degli esteri, Sergei Lavrov, che dopo il giallo ieri sulla sua salute e un presunto ricovero breve in ospedale per un malore, ha partecipato alla prima sessione plenaria su sicurezza alimentare ed energetica. Nessuno, come accaduto in passato, ha lasciato la sala, ma sarebbe saltata la tradizionale foto di gruppo dei leader in apertura di summit. Uno scatto cancellato, si dice, proprio a causa di Lavrov con molti leader occidentali sfavorevoli ad apparire al suo fianco. Al di là degli appuntamenti collettivi, l'attenzione è per la miriade di incontri a margine. Il più importante è quello tra Biden e Xi già avvenuto. Molte le intese, la volontà di dialogo e collaborazione, ma non è mancato lo scontro su Taiwan. È la prima linea rossa da non superare, ha avvertito Pechino. È la guerra in Ucraina e tutte le sue ripercussioni al centro dei diversi bilaterali in corso e la necessità espressa praticamente all'unanimità di spingere la Russia a tornare al tavolo dei negoziati, di lavorare per la pace e di restare uniti contro le minacce di Mosca. Nella bozza del comunicato finale, una netta condanna del conflitto, l'urgenza di un cessato il fuoco e la richiesta di un immediato ritiro russo dall'Ucraina.